Buonasera, ben ritrovati a una nuova puntata di Angoli lunedì, buon inizio di settimana. Quest'oggi parleremo di un corso che prenderà il via tra poco tempo, il 18 marzo, per cui iniziamo a presentarvelo proprio per permettere ai nostri telespettatori a voi, quindi di potervi iscrivere in tempo, di potervi informare e fra poco approfondiremo questo aspetto. Nella seconda parte però non mancate perché invece vi porteremo a una mostra, una mostra che si trova aperta in questo momento al Max Museo di Chiasso, dedicato a Salvatore Rosa, quindi non mancate perché ve la presenteremo, vi daremo una piccola anticipazione. Vi ricordo intanto la nostra mail angoli-espansionetv.it, mi raccomando, come sempre ve lo ricordo, utilizzatela per comunicare con il nostro programma. Adesso è il momento di parlare di escursionismo di neve, siamo in compagnia di Antonio Benvenuti del CAI-COMO, buonasera. Buonasera a tutti. E in compagnia di Federica Grassi, che è un'allieva del corso del 2014 di escursionismo, proprio quello che presentiamo oggi. Buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, Antonio, iniziamo da te. Tu sei un accompagnatore appunto di escursionismo, sei stato anche direttore di questo corso, siamo qui oggi appunto per presentare la nuova edizione, quella del 2015, che prenderà il via a marzo. Quindi cosa c'è da sapere? Sì, noi siamo una parte della sezione del CAI-COMO, del Club Alpino Italiano della sezione del CAI-COMO. Svolgiamo attività escursionistica, ormai da 23 anni, quindi siamo un po' veterani dell'argomento. E da 17 anni organizziamo, parallelamente all'attività normale di escursionismo, anche un corso di escursionismo, che è orientato a tutti coloro che iniziano ad andare in montagna e non sanno cosa vuol dire frequentare questo ambiente, questo mondo, per noi speciale e particolare. Ma anche per coloro che vogliono magari approfondire qualche aspetto in più, flore e fauna, cultura alpina, sicurezza, orientamento, per poter affrontare in modo più tranquillo, più autonomo e più sicuro questo ambiente. Perciò il corso di quest'anno, come hai detto giustamente tu, parte al 18 di marzo, con la chiusura di iscrizione l'11 marzo. Si svolge su 5 uscite durante la domenica e degli incontri al mercoledì, 7 incontri al mercoledì e cerchiamo alla domenica di poi rivedere sul campo quello che abbiamo trattato al mercoledì. Concludiamo il corso con una bellissima due giorni in rifugio, perciò facciamo provare a tutti coloro che frequentano il nostro corso questi due giorni, questo pernottamento in rifugio, che pernottamento in rifugio non è un pernottamento in albergo, è qualcosa di diverso. Sotto certi aspetti più spartano, più affascinante, più bello, si va a letto prestissimo, si sveglia altrettanto presto per poter avere la possibilità di ammirare la montagna nei momenti del tramonto e dell'alba, che sono forse i momenti più belli che normalmente in un'escursione domenicale dove si arriva anche se presto alle 8, alle 9, però poi alle 3, alle 4 si viene via perché obbligatoriamente bisogna tornare a casa, questi due momenti sono i due momenti che non si riescono ad apprezzare e soltanto facendo un pernottamento in un rifugio si ha la possibilità. I momenti più belli che però non sempre poi è possibile ammirare appunto andando facendo una gita, un'escursione in giornata. Federica, a te cosa ha spinto a partecipare a questo corso? Eri già un amante della montagna, frequentavi già la montagna? Sì, eravamo già amanti ma non eravamo esperti della montagna. Abbiamo incominciato perché dopo tre figli avevamo l'esigenza di mio marito di fare qualcosa insieme e abbiamo pensato per caso di iscriverci a questo corso, è stato bellissimo, primo perché impari davvero delle cose che non immagini, come leggere una mappa che può sembrare semplice ma non lo è e orientarsi quando sei in un sentiero che sembra semplice ma anche lì non lo è. E poi abbiamo conosciuto delle persone meravigliose perché appunto come diceva Antonio, oltre a tutte queste escursioni domenicali che comunque ti puoi aggregare e puoi fare, è proprio bello l'ambiente. Abbiamo trovato un ambiente di professionisti seri che però anche molto spiritosi, che ti coinvolgono e hanno saputo tirarci dentro nel gruppo e farci amare l'escursionismo, la montagna e il gruppo. Quindi un'esperienza non solo utile ma che comunque poi ha tutto un aspetto anche ludico, di divertimento, di socializzazione anche con altre persone. Perché frequentare questo corso? Perché magari molti da casa dicono ma sì io sono già abituato, conosco bene la montagna, non ho bisogno di apprendere nuove cose. Ma la frequentazione di questo corso è prima di tutto magari conoscere anche persone nuove, non necessariamente magari persone più esperte perché magari l'esperienza uno ce l'ha già sul campo perché magari 20-30 anni che va in montagna. Conoscere un gruppo, magari molte persone come loro andavano in montagna da sola, molte persone che si iscrivono al corso sono persone che magari andavano in montagna da anni ma che non sono mai andate in compagnia in gruppo. La montagna ha un fascino particolare, un fascino bellissimo, senza emozioni le montagne sarebbero soltanto dei sassi più alti, niente di più. e condividerle con delle altre persone che poi diventeranno, se si continuano a frequentare negli anni, degli amici veri perché l'amicizia in montagna è un'amicizia fatta facendo fatica ed è un'amicizia dove si rinsalda molto di più che non nel nostro quotidiano. in un ambiente, in un mondo completamente diverso dal nostro quotidiano con degli spazi e con delle visioni che sono diverse da quelle che noi siamo abituati a vedere tutti i giorni e soprattutto con un ritmo completamente diverso. Il ritmo della montagna è lentissimo, non è frenetico e permette di cogliere degli aspetti che durante la settimana noi non abbiamo neanche il momento e l'attenzione per poterli... Permette di rallentare e fare un respiro. Permette di rallentare, di fare un respiro, di percorrere dei luoghi che magari già conosciamo perché siamo passati in auto ma che non abbiamo visto con gli occhi di colui che cammina e non colui che è su un'auto e soprattutto in un contesto dove l'ambiente assume una dimensione veramente spettacolare e meravigliosa essere in cima ad un monte e guardare quello che ci sta sotto di noi non è quello che noi siamo abituati a vedere quotidianamente e questo è il suo fascino e la sua bellezza. Non è soltanto questo perché il nostro gruppo poi si occupa di sentieristica, si occupa di sicurezza, si occupa di ambienti in nevato, quindi la montagna per 12 mesi all'anno perché il bello di questo mondo è che si inizia a gennaio e si finisce a dicembre. Si incomincia subito dopo Natale. Questo per quanto riguarda l'attività in generale, il corso dura meno però poi ci sono tutta una serie di attività anche per chi come te Federica ha finito il corso e decide però comunque di mantenere i rapporti appunto con queste persone. E poi anche provare delle cose in sicurezza perché per esempio io soffrivo di vertigini e non avrei mai usato fare delle ferrate piuttosto che loro mi hanno accompagnato, mi hanno guidato, ho scoperto che le posso fare tranquillamente e se da sola non l'avrei mai fatto questo. Invece in sicurezza con delle persone che ti guidano viene più facile e sfidi anche un po' le tue capacità. Si riesce anche a superare un po' i propri limiti, sia caratteriali che non solo le paure, insomma. Sì, è alla portata di tutti diciamo, bisogna smentire il fatto che soprattutto l'aspetto escursionistico della montagna quindi andare a camminare sui sentieri sia soltanto per coloro che sono degli atleti, assolutamente no. È alla portata di tutti, dal bambino alla settantenne che in funzione del proprio anche livello di allenamento può frequentare e partecipare a delle escursioni che oltre al corso, come dicevamo prima, iniziano da gennaio e finiscono a dicembre e si iscrive di volta in volta quindi non c'è la necessità di dover programmare con forte anticipo. al mercoledì sera, uno è sufficiente che guarda il nostro programma sul sito nostro di escursionismo.caicomo.it e telefono giù al mercoledì sera, noi ci troviamo tutti mercoledì sera dalle 9 in poi per chiedere informazioni, per venire giù a fare quattro chiacchiere magari organizzare un'escursione insieme alla domenica se non c'è un'uscita ufficiale e anche per poi iscriversi e partecipare alle escursioni durante l'anno. Noi siamo qui oggi chiaramente per presentare il corso, dare tutte le informazioni possibili ai nostri telespettatori in ogni caso c'è anche appunto la possibilità di proseguire poi il percorso, un po' come diceva Federica oltre il corso andando avanti in quelle che sono le esperienze e l'escursionismo con le vostre attività. Una cosa volevo aggiungere che giovedì sera presso il Collegio Gallio abbiamo una serata di presentazione del nostro programma con un personaggio Elie Riva che è un giornalista del vicino canton Ticino che presenterà un programma dei 73 mila del Ticino e dove noi presenteremo anche il nostro programma nel dettaglio, il corso e il programma delle attività che noi abbiamo. Per chiunque volesse approfondire ora state vedendo appunto la locandina del corso se no in ogni caso giovedì sera c'è questo incontro presso il Liceo Gallio o attraverso il Don Guanella ho sbagliato io presso il Don Guanella o se no comunque c'è il vostro sito che è www.caicomo.it Mi ringrazio per essere stati con noi, ringraziamo quindi Antonio e benvenuti ringraziamo Federica Grassi, noi ci fermiamo solo per pochi istanti di pubblicità e torniamo tra pochissimo, non mancate